il fiore se sei tu l'invisibile Sabrina per me sarà molto più facile metterti K.O non sei riuscita a trovare il mio costume? dovrai vedertela con me molto utile è me che cerchi Sabrina? sono qui vieni? oh no fai sul serio non stare lì se la smetti con questa bella ceda forse potrai tornare a essere la mia migliore amica tu non hai amici Chloe e non ne avrai mai dopo per tutta la vita perché fare in modo che tu non ne abbia non mi fai paura tutti vogliono essere miei amici questo non è un gioco Chloe perché è finita Ladybug? no non ancora invisibile solo perché mi vedi non significa che riuscirei a sconfiggermi Ladybug oh guarda che ti difende resta qui non muoviti ehi riguarda anche me ricordatelo dobbiamo distruggere il suo zaino e catturare la kuma aspetta Ladybug non credo che il suo kuma sia lì dentro è così? intendi combattermi Chloe? puoi pensarci tu Shanoar? con piacere collega aspetta la kuma è nella spina che indossa è la rosa attaccata al maglione ci viene tantissimo alla spina non al maglione glielo ho regalata io non lo ripeterò un'altra volta ascoltami bene devi andartene da qui è troppo rischioso per te e anche per noi è chiaro? ma perché non mi accorti? ti ripeto che la kuma è nella sua spina che stress niente più male fatto piccola kuma che cosa ti avevo detto? allora chi è che aveva ragione? miraculous ladybug non è possibile ce l'ho quasi riuscito ma che cosa è successo? cosa ci faccio qui? oh no la spina che mi ha regalato Chloe perché non hai dato retta a Chloe? cercava di darci una mano grazie a tutti